ciao ragazzi sono giuseppe e benvenuti in questo nuovo video in questo video parlare del post partita delle pagelle di juventus cagliari partita valevole per la diciotese giornata di campionato la partita è finita 4 a 0 per la juventus una grandissima juventus se vissi in campo giocando una bella partita come volevo io e bisogna iniziare a giocare bene ragazzi per tutto questo 2020 iniziamo a giocare bene la grande come io voglio bene ragazzi è stato un 4 a 0 bello 4 a 0 strepitoso con grandi azioni nel secondo tempo ovviamente dopo che ci siamo sbloccati la partita è cambiata in tutti i sensi ok è stata una tipetta di ronardo con gol del 1 a 0 che è arrivato praticamente da uno sbagliore difensivo e difensore del cagliari poi è stato il 2 a 0 sui gol di ronardo e fine il gol del 4 a 0 parlano ovviamente della tripletta di ronardo arrivando da un'azione di contropiede partita tutta da daga scosta e poi è stato il gol 3 a 0 di guain con un'azione partita da ronardo ovviamente tre gol un assist per ronardo quindi molto bene così ok adesso parliamo delle pagelle scelmi 6 quadrato 7 buonucci sei e mezzo demigrare sei e mezzo alexandro sei rabbio sei pianici sei matri di sei ramsi sei di bar 7 ronardo sette e mezzo i guain sei e mezzo dalla scossa sei e melecian sei bene ragazzi questo è tutto via con una buona serata e fine alla fine forza juventus ciao ragazzi